Bentornati carissimi amici, bentornati qui in questa bellissima spiaggia che come dico sempre, vedete, è vuota ma poi quest'estate si animerà di tantissimi colori, suoni, ma soprattutto giovani, meno giovani e tanto amore. Siamo qui con Deborah, ciao Deborah. Ciao a tutti. Associazione insieme a te, perché siamo qui? Perché sarà l'associazione alla quale devolveremo il ricavato di Enerjoy, il ballo che unisce, che quest'anno appunto diventa Io ballo per te. Quindi partecipate a numerosi, ma non soltanto a livello economico, parlavamo nelle scorse puntate, nelle scorse interviste, anche del fatto che si può partecipare semplicemente col proprio tempo e si respira un'aria diversa. Allora Deborah ti dicevo appunto di questa bellissima maglietta che ho avuto l'opportunità di vedere l'anno scorso che sono venuta qui quando eravate in piena attività ed è bellissima perché c'è scritto proprio dove andiamo a respirare un po'. Allora innanzitutto dove nasce il nome Insieme a Te? Insieme a Te nasce ancora quando Dario comunque negli anni della sua malattia e così un giorno decidiamo tra noi amici di fare una sorta di festa per lui. E mi ricordo che raccogliemo tantissimi amici suoi, colleghi, amici e ognuno di loro diceva Insieme a Te. E raccogliemo tutti questi piccoli video e lo portiamo in questa sala bellissima dove lui in realtà arrivò e si vede proprio il video che partiva dove dicevano Dario Insieme a Te, Insieme a Te. Quindi immaginatevi 200 persone che dicono Insieme a Te un video dopo l'altro. Che meraviglia! E questo Insieme a Te voleva dire che ok Dario è vero la malattia è questa ma io sono Insieme a Te e quindi da lì è nato Insieme a Te perché comunque anche nelle difficoltà più grandi se io sono Insieme a Te tutto è più leggero e più facile. Bellissima maglietta coloratissima e di dietro c'è scritto dove andiamo a respirare un po'. Sì questa frase è del film famosissimo Quasi Amici dove proprio c'è l'assistente con questo signore che comunque è in carossina e dice dove andiamo a respirare un po'. Perché di fatto quello che fanno i nostri ospiti è proprio quello di respirare un po' perché voi immaginatevi tanti di loro stanno tutto l'anno in casa e quando vengono qua è l'unico momento in cui veramente vengono a respirare. E quindi questa frase per me ha sempre reso molto l'idea di quello che facciamo cioè di respirare un po' di aria, di respirare un po' di persone vicine a te, di respirare la normalità perché credetemi che più di tutto a queste persone manca la quotidianità, la normalità che magari noi viviamo sempre e non ce ne rendiamo conto ma loro manca tantissimo. Allora tantissime magliette addosso a tanti ragazzi giovani perché abbiamo detto tanti volontari giovani dalla parrocchia non solo e quindi anche voi invitiamo se vi va di venire a fare questa piccola esperienza ma prima di dire sì mi butto ci provo venite a farvi una passeggiata no perché respirate e poi dopo dite sì mi piace ce la faccio vengo anch'io. Da quando si parte qui al mare? La stagione quest'anno partirà dal 13 giugno e rimarrà aperto fino a agosto e quindi sono due mesi e mezzo quest'anno, ogni anno diciamo la stiamo un pochino di più il tempo e in questi due mesi e mezzo noi stiamo riempendo ogni settimana sia di ospiti che di volontari. Ma quindi vengono soltanto dalla nostra Emilia Romagna o vengono anche da fuori regione? No assolutamente molti vengono proprio fuori regione quindi dal nord Italia sicuramente perché è la prima che si incontra venendo giù e quindi Milano, Torino, Domodossola vengono da tutta parte d'Italia. E quindi dove alloggiano qui perché qui avete soltanto il bagno al mare in realtà? Esatto dopo abbiamo avuto la fortuna di avere questa famiglia che ci ha dato disponibilità per quattro dei suoi appartamenti che sono tutte e quattro a pieno terra e noi praticamente li abbiamo allestiti dentro in modo tale che loro avessero più o meno la stessa cosa che avevano a casa si riproponesse qua. Quindi noi insieme a te in questi appartamenti propone il letto reclinabile ad uso gratuito e il sollevatore ad uso gratuito. Dopodiché loro pagano l'affitto a queste famiglie che sono state graziosissime, la famiglia Cecognani di Punta Marina perché dall'anno scorso oltre ad aver sposato comunque il progetto di questi quattro appartamenti nel frattempo nell'inverno li ha messi anche a norma quindi nel senso col bagno accessibile quindi vuol dire sposare il progetto al 100%. Ma questo vi è sufficiente perché se tu mi dici che avete già tutte queste prenotazioni gli altri poi dove li mandiamo? Infatti purtroppo l'unica carenza che abbiamo è questa cosa qui, purtroppo gli alloggi sono veramente pochi, noi abbiamo fatto appello anche da poco al comune di Ravenna per vedere di sollecitare comunque gli abitanti di Punta Marina per trovare alloggi che noi ribadisco chiediamo comunque alloggi a piano terra senza grosse cose diciamo ecco però è difficile, infatti ci troviamo anche ad oggi a fare una lista di persone che al momento sono senza alloggio per venire qua. Quindi vedete quante cose si possono fare quando uno ha voglia di provare, c'è chi può fare l'offerta, c'è chi può venire e prestare il suo tempo preziosissimo ma c'è chi anche può mettere a disposizione un appartamento per far vivere una settimana diversa dal solito, una settimana nella normalità a chi nella normalità non è uso quotidiano nella sua vita, causa una patologia. Quindi io ringrazio Deborah di queste bellissime parole anche oggi, vi ricordo che sarà ancora con noi perché insieme a lei facciamo appunto questo cammino per conoscere meglio l'associazione insieme a te che ripeto sarà l'associazione alla quale devolveremo ciò che verrà dalla manifestazione Energio e il ballo che unisce che quest'anno giunge, l'undicesimo anno e quest'anno parte appunto il progetto Io ballo per te. Grazie Deborah. Grazie a voi.